A sette mesi dall'insediamento, sabato sera, il sindaco Giancarlo Guercio ha voluto incontrare i cittadini di Buonabitacolo per fare un bilancio dei primi mesi di attività amministrativa. Il momento di confronto si è tenuto presso il Centro Sociale Cupola alla presenza dei componenti del Consiglio e dell'Aggiunta Comunale. Sono ormai trascorsi sette mesi di attività amministrativa, essere riusciti a formare innanzitutto una squadra molto valida, a comporre un'Aggiunta competente e che ha permesso di affrontare alcune questioni molto delicate che abbiamo riscontrato appena siamo stati eletti, riuscire anche in brevissimo tempo a affrontare e risolvere alcune questioni come quella del bilancio, quindi proporre un piano di riequilibrio che sta vagliando la Corte dei Conti e poi riuscire a risolvere altri problemi come quello ormai annoso dell'acquedotto. Ma anche in ultimo, insomma, una notizia anche abbastanza recente, aver ottenuto il rifinanziamento della scuola, credo siano iniziative importanti, anche molto significative e che stanno dando un indirizzo di grande valore anche di un'attività molto seria. Dimostrano la grande volontà di un gruppo amministrativo che vuole prodigarsi per il Paese e che affronta ogni questione. Sono davvero bei risultati di cui sicuramente andiamo molto soddisfatti. A turno tutti gli amministratori sono intervenuti per un saluto e a relazionare su quanto è stato fatto finora. Occhi puntati sulla questione rifiuti di cui ha parlato il consigliere delegato Nicola Galatro, ha riferito che con una gestione più efficiente in pochi mesi sono stati risparmiati circa 11.000 euro. Intanto si punta alla riduzione dell'indifferenziato e alla creazione di un centro di compostaggio. L'intervento più corposo sul bilancio della situazione finanziaria è toccato alla vice sindaco Vincenza Basile. Ha fatto un lungo e dettagliato excursus dal momento dell'insediamento alla condizione attuale. Ha ricordato che è stato deciso di ricorrere al piano di riequilibrio semplice e di non indebitarsi ulteriormente con il fondo di rotazione. Ad oggi sono stati eliminati circa 380.000 euro di debiti. 200.000 riguardavano l'energia elettrica e di questi ultimi, grazie alle transazioni, il Comune è riuscito a pagarne solo 94.000. Per quanto riguarda i residui attivi, l'ente deve recuperare tra Tarsu, Tares, Tari, Acquedotto e Fognatura circa 750.000 euro. Per questo si stanno affidando ad una società abilitata con la quale, rispetto all'agenzia delle entrate e riscossioni, i cittadini potranno godere di alcuni vantaggi. Oltre a descrivere quanto è stato fatto, nell'incontro di sabato il sindaco ha illustrato le iniziative e gli obiettivi futuri. Sicuramente metteremo mano alla piscina e alla palestra di Buonabitacolo. Abbiamo fatto realizzare un preliminare da un progettista. Cercheremo adesso di capire quale sarà la soluzione più idonea, se con un project financing oppure un investimento diretto del Comune, dell'ente. E in ultimo è di recente anche un'iniziativa forte che abbiamo intrapreso nei confronti di ditte assegnatari dei lotti della zona industriale che non hanno ancora, dopo tanti anni, realizzato le opere per cui abbiamo avviato un procedimento di revoca dei lotti e quindi avvieremo anche a breve lo sviluppo economico di Buonabitacolo attraverso la riassegnazione dei lotti o comunque la concessione per chi vorrà realmente realizzare l'opera.